I cibi tipo la soia, purtroppo i vegani che si convertono da poco mangiano tantissima soia perché non sanno dove prendere la proteina, quindi si abbuffano di soia. Invece la soia si può mangiare una o due volte a settimana perché nel nostro DNA non c'è. E che cosa mangia a posto della soia? Fagioli, ceci, lenticchie... Ma infatti quello che... Non è che la controparte del vegano non mangia tutto questo, e questa è la provocazione. Mangiare frutta e verdura non vuol dire essere vegani. Io promuovo un'alimentazione in cui la carne, il pesce, le uova sono ben presenti, una percentuale del 20%, facciamo complessivamente, e tanta frutta, verdura, cereali integrali, semi, questa è la vera alimentazione che tutte le autorità sanitarie internazionali che si occupano di politiche... Ma come ce la invidiano in tutto il mondo? La nostra dieta è l'interdata. Non è che legumi non li mangiano gli onnivori, non è che la frutta e la verdura non li mangiano, ma insieme anche alla carne, al pesce, che sono delle sostanze ricchissime di elementi nutrizionali. Sono dei cibi assolutamente nutrienti, in alcune fasi della vita come l'infanzia, la gravidanza, la senescenza, sono pressoché insostituibili. Cioè tu dici che a 100 anni si arriva meglio se c'è una dieta che tiene dentro tutto quanto? Ci sono degli studi molto precisi che fa bisogni proteici in terza e quarta età, dovrebbero aumentare del doppio perché ci sono fenomeni di depredimento muscolare e suggeriscono proprio gli amminoacidi essenziali di cui parlava Claudia e soprattutto le fonti proteiche nobili. Ci sono indicazioni molto precise da questo punto di vista. Chi dice il contrario è semplicemente fuori dalla scienza. Io ti rispondo, ovviamente, non ti rispondo da vegana ma da naturopata scientifica che essendo naturopata scientifica segue la scienza, come stava dicendo lui. Cioè non possiamo fingere che ci siano degli studi quando non ci sono. Allora, le uova non posso dire che siano delle proteine che ti fanno male, ok? Non è così, cioè se non le mangi in quantità enormi eccetera eccetera però dobbiamo capire da dove vengono queste uova. Il 90% delle uova che mangiamo vengono da galline che vivono in gabbia a cui è stato riciso il vero. Ma ormai no, non è vero. Ma come ormai no? Ma non è vero, no. Ma gli allevamenti intensivi, ma sì, il 90% della carne che mangia e delle uova che arrivano sono gli allevamenti intensivi e i pulcini vengono uccisi immediatamente. Cioè tutta questa sofferenza, poi te la mangi, questa sofferenza c'è. Io non posso far finta, le uova è vero, sono proteine nobili, se le cucini alla cuocano sono tossiche eccetera eccetera. Ok, puoi mangiare le uova ma devono essere uova di galline libere e felici. Cioè dove sono queste galline? Ormai non ci sono più. Ha alzato una palla, purtroppo mancano ancora pochi minuti, però ho capito quello che dice. Siccome dice la mia è una posizione etica, non è una posizione soltanto diciamo alimentare, dice se gli allevamenti sono degli allevamenti intensivi sfruttano gli animali e quindi c'è un fattore etico. Ho sintetizzato... Certo, quindi sapendo questo non li posso mangiare. Come rispondiamo? Gli aspetti etici sono davvero una cosa molto personale e io mi fermo prima di entrarci, però bisogna guardare le cose nella loro correttezza e complessezza. Gli allevamenti intensivi italiani, non sta mai a difenderli, sono un'eccellenza. Esatto, eccellenza di sofferenza, eccellenza di sofferenza. Scusami però, nessuno ha più idea di come muoia una zebra sbranata viva da un leone. Ma quella è natura. Quella è natura ma è sofferenza. Noi non facciamo più questo genere di cose, c'è qualcuno che fa questo lavoro per noi, in maniera anche molto cautelativa della sofferenza animale. Abbiamo una legge in Italia sul benessere animale che ce le invidiano in tutto il mondo. C'è il paese, ma non è così. C'è il paese, ma non è così.